Ciao a tutti ragazzi, buongiorno Se avete visto il video di ieri, quello legato al microfono condensatore questo qua che viene giù da qua sopra grazie al braccetto telescopico avrete notato che indossavo questo paio di cuffie della One Audio è una marca che francamente non conoscevo fino a qualche anno fa mi sembravano buone sulla carta, le ho acquistate e le ho trovate veramente veramente interessanti sono forse un po' forti sui bassi, quindi sono un po' bassose come un po' grosse ma non sono malaccio, oltretutto sono chiuse quindi vanno benissimo per registrare per non far sentire i ritorni dalla cuffia perché ci sono quelle bucherellate che si sentono anche fuori un po' di più il problema che ho con queste cuffie qui è che le ho recuperate dallo studio di registrazione dove abbiamo avuto un problema di muffa, di attacco di muffa quindi puzzicchiano un po' le ho già pulite, le ho dato una pulita di massima l'altro giorno però non è bastato, non è stato sufficiente puzza anche il cavo, cioè anche il cavo pulito ma puzza anche questo quindi il cavo lo stacchiamo perché queste tra l'altro si staccano e la cosa carina di queste cuffie, tra l'altro adesso ve le faccio vedere è che da un lato hanno lo spinotto piccolo, dall'altro hanno lo spinotto grande e si possono collegare in entrambi i modi perché su una cuffia c'è da una parte c'è un buchino grosso, dall'altra c'è un buchino piccolo e quindi potete insomma senza aver bisogno di dattatori mettere quello che vi interessa a seconda se lo usate con il computer, con il telefono oppure con una scheda audio che ha lo spinotto grosso in output e quindi l'input della cuffia quindi di cosa abbiamo bisogno per pulire queste cuffie beh aceto di alcol, mi raccomando non aceto di vino normale ma aceto di alcol quello che si può utilizzare anche per i pavimenti perché è inodore, non dà fastidio insomma ed è bello forte quindi utilizzeremo questo una pezzetta classica, insomma un tessuto per pulire e nel mio caso anche un cacciavite perché voglio andare veramente a pulire all'interno perché l'odore non è solo da questa parte qui gommosa e di tessuto che adesso tra l'altro togliamo, poi vi faccio vedere come si rinfila facile perché è facilissima da reinserire ma l'odore viene proprio dall'interno, dagli altoparlanti della cuffia quindi andiamo a smontare questo pannellino qua per farlo abbiamo bisogno del cacciavite quindi andiamo a svitare tre viti che ci sono qua, una, due, tre bene, ho bisogno di un cacciavite più piccolo quindi prendiamo questo qui che era quello di un hard disk e dovrebbe essere sufficientemente piccolo per entrare nelle vitine e infatti sì, eccolo qua toltre le tre viti si può staccare il pannello e arrivare non solo ai fili ma anche all'altoparlante interno quindi questo ci renderà possibile pulirlo proprio bene bene da dentro facciamo una cuffia alla volta perché se no rimane volante e questi fili qua dentro sono veramente veramente sottili quindi vorrei evitare di romperli perché altrimenti poi posso buttare le cuffie anche se una volta mi ricordo di aver aggiustato il filo di una cuffia con un accendino ma questa è un'altra storia apriamo il nostro aceto di alcol e inzuppiamo un pochino la nostra pezzetta per andare a pulire il mio consiglio è di essere abbastanza generosi ma insomma non da inzuppare completamente tutto quanto quindi passiamola semplicemente su tutte le superfici che possiamo raggiungere quelle sopra, quelle sotto, quelle interne anche nella parte interna qua della cuffia per non farsi mancare niente e dare una pulizia veramente grande quando il risultato è soddisfacente possiamo andare a richiudere la nostra cuffia e riavvitare le vitine dato che l'aceto di alcol evapora abbastanza in fretta vi consiglio di ripassare diverse volte e riaggiungere l'alcol insomma quando sentite che la pezzetta si sta asciugando ripassatelo di nuovo allargate anche questa parte qui per passare anche all'interno tanto non vi preoccupate non si rovina niente o non dovrebbe rovinarsi niente insomma se siete abbastanza delicati non si romperà nulla ripetete le operazioni per l'altro altoparlante quindi per l'altra cuffia non so se destra o la sinistra insomma ma l'altra due ne abbiamo una volta finite le cuffie passiamo di nuovo al cavo li do un'altra passata visto che la prima volta non è stato sufficiente fate scorrere il cavo anche due o tre volte sulla pezzetta umida di aceto perché bisogna pulirlo veramente veramente bene sembrerebbe abbastanza a posto per ultima cosa questi qui che servono per coprire le cuffie pulite bene anche questi se volete potete anche lavarli proprio metterli a molle poi farli asciugare io non ho voglia di fare questa cosa quindi le darò una pulita così anche all'interno con l'aceto però devo dire che questi non avevano odore già prima quindi non è questo che ha preso quel cattivo odore la cosa bella di pulire l'attrezzatura con l'aceto è che con l'aceto di alcol è che evapora molto in fretta quindi non si sentirà poi nessun odore ma le cose resteranno pulite ed è la cosa fondamentale insomma cambio posizione della fotocamera per farvi vedere come funziona il rimontaggio delle cuffie se notate qua c'è un taglietto c'è questo tagliettino dove si deve inserire la cuffietta per rimetterla in loco diciamo perché adesso le abbiamo tirate fuori quindi questa parte qua è difficilissimo farlo vedere alla camera questa parte qua si infila semplicemente qua dentro e girando la cuffia in men che non si dica è stata inserita quindi queste cuffie non sono belle solo per il suono che hanno ma anche per la facilità di utilizzo e di pulizia perché la strumentazione dopo un po' va pulita quindi devo dire che non mi hanno assolutamente deluso ecco qua in due secondi le cuffie sono state rimontate sono pulite non puzzano più e quindi possiamo ricominciare a produrre la nostra musica quello che vogliamo grazie a tutti di essere stati con me anche per oggi vi ricordo che se vi è piaciuto il video potete mettere un like iscrivervi al canale attivare la campanella per non perdere altri aggiornamenti e video di questo tipo qui se volete passate anche dal canale Instagram Facebook e da sito web solocosenove.it che vi lascio qua in sovraimpressione o comunque nei link qua sotto in descrizione spero che questo video sia stato utile per qualcuno di voi intanto se volete provate queste cuffie perché sono veramente buone sono veramente ben fatte grazie a tutti ancora una volta ciao ciao